Maria ti ricorda oggi che Dio chiama anche a te, anche te, a questo destino di gloria. Non sono bene parole, è la verità. Non è un lieto fine creato ad arte, una pia illusione o una falsa consolazione. No, è la verità, è la pura realtà. È la realtà viva e vera come la Madonna assunta in cielo. Festeggiamola oggi con amore di figli. Festeggiamola gioiosi ma umili, animati della speranza di essere un giorno con lei in cielo.